Benvenuti in questo nuovo video 6mm con cambio di inquadratura, siamo in un posto nuovo, non è vero, abbiamo semplicemente cambiato angolo del negozio perché oggi parliamo di una cosa un po' diversa, che non vi avevamo ancora portato, che ci sembrava interessante di squisire insieme a voi come agghindare, come equipaggiare il proprio tattico, cosa metterci principalmente, come gestire le tasche e in generale come si può equipaggiare in maniera completa, funzionale e ovviamente comoda il proprio tattico da soft air Sigla che partiamo! Faccio un piccolo disclaimer, questo non è il mio tattico, ma è di un ragazzo della nostra squadra chiamato Wargasm, che ha fatto e agghindato il tattico in maniera eccellente e quindi ve lo stiamo portando, tutto quello che recensisco sono in base alle sue preferenze di gioco quindi Bene, partiamo deassemblando e analizzando pezzo per pezzo questo setup Troviamo come base un tattico plate carrier della warrior, taglia M, la warrior fa due taglie principali M per quelli più slanciati e minuti e L invece se siete dei torelli da guerra Molto comodo anche perché una delle cose più importanti da valutare quando si sceglie il proprio tattico è che non può sballonzolarvi adosso Vi ho toccato il pacco tra l'altro Non vi può sballonzolare adosso perché vi rende il gioco molto più difficile, avete bisogno che le cose vi stiano belle aderenti al vostro corpicino E che quindi non vi sballonzoli adosso nulla in quanto vi porta ad avere uno sbilanciamento Si può cadere, ci si può fare male, si possono perdere dei componenti e degli accessori in giro Soprattutto quando non li si mettono nella posizione giusta intorno al tattico ed è estremamente spiacevole, ve lo assicuro Come task troviamo un misto di invader gear, mantis, emerson in questo caso e warrior Ve le analizzerò tutte nello specifico, a breve vi spiegherò perché sono state messe in quella determinata posizione Troviamo anche una cinghia da un punto sempre della mantis che vi analizzerò dopo e vi spiegherò anche come attaccare le cinghie a un punto Che molte volte vedo delle robe che sono da neuro delirio e si sbagli e uno poi compra una cinghia a un punto e non la sa usare ed è un peccato Sono molto utili se vengono usate nella maniera giusta E niente, partiamo decomponendo il tutto e analizzando pezzo per pezzo Partiamo dall'alto, abbiamo la tipica tasca, porta documenti, porta cose essenziali Con il suo bellissimo velcro davanti per attaccare il vostro nome da guerra e tutte le patch Il velcro tra l'altro è molto utile perché ci permette volendo di attaccare il secondo tasto di attivazione del PTT Armor in questo caso e renderci più semplice a seconda di quale delle due mani sia libere o in quale posizione ci troviamo di attivare la nostra radio Il secondo attacco invece per attivarlo e anche il PTT principale viene attaccato nei passanti molle E' comodo averlo all'altezza indicativamente giusto sotto il collo per poterlo attivare in maniera semplice E vi consiglio di metterlo in un posto appunto esterno, quindi sul lato più esterno del tattico per poterlo attivare nella maniera più comoda E soprattutto di non spostarlo con frequenza in quanto dovete abituarvi a premerlo senza ovviamente guardare In quanto sarà giusto sotto la vostra testa ed è essenziale saperlo fare velocemente e efficacemente Premendo bene il pulsante e non facendo delle comunicazioni intermittenti come spesso capita Proseguendo quindi con il discorso troviamo una tasca porta granate con una FortiMic Questa è meglio lasciarla lì dentro perché ho paura anche solo a toccarla In modo tale da averla sempre comoda e sempre pronta all'uso Più in basso troviamo invece due tasche triple portacaricatori Quella sotto è della Mantis mentre quella sopra invece è della Invader Gear La scelta di mettere una Mantis sotto è perché le tasche Mantis sono estremamente resistenti e soprattutto pensate per gente che le usa sul serio in guerra e non E regano quindi perfettamente il peso di un'altra tasca tripla sul davanti con dentro anche dei caricatori carichi Abbiamo quindi a disposizione 6 caricatori X-Mag monofilari da 120 colpi Questo ragazzo come me tra l'altro non ama dover ricaricare ogni partita quindi se ne porta dietro un buon numero Quelli posteriori hanno anche l'estrazione rapida in quanto essendo più vicini a questa tasca sopra c'è bisogno di tirarli fuori in maniera più semplice Molto molto intelligente come cosa Vi faccio notare anche come sono stati bloccati Chiaro è che si possono bloccare anche in questa maniera qui ma in questo modo è molto più semplice toglierli e sfilarli Rimettiamola a posto che se glieli perdo è finita Come vedete questa è la tasca Mantis mentre questa è l'Invader Gear Sono ovviamente attaccati col molle sul lato mi raccomando quando attaccate il molle fate come quando cucite Cioè fate un passaggio in ognuno degli attacchi non mettetela tutto in uno e poi chiedetela in fondo Se no vi sbattacchiano ovunque le tasche Infine sotto troviamo la downpouch è il vostro solito borsello Può ospitare qualunque cosa vi serva in campo Vi consiglio di non metterci mai il telefono in quanto è un po' esposto diciamo Il ragazzo qui dentro tiene un taccuino per segnare le cose Una Glock Ultra Compact 42 Molto comoda nel caso vi perquisiscano e abbiate bisogno di rispondere al fuoco in maniera occultata Dei fazzoletti e altre cose le carte potete metterci insomma quello che volete E anche utile perché avete un ulteriore attacco velcro su cui in questo caso hanno attaccato il nome della nostra squadra E delle altre patch Molto utile questa ragazzi per metterci soprattutto le cose che non si vanno a mettere in altre tasche dove possono uscire In quanto con la cerniera potete metterci il portafoglio che tanto non temi i pallini O tenerci i soldi, tenerci il taccuino come avete visto molto molto comoda Prima di abbandonare definitivamente il lato frontale del giubbotto faccio una parentesi sulla cinghia a un punto Le cinghie a un punto sono il vostro miglior amico in quanto sono estremamente comode Vi permettono di caricarvi il fucile in spalla se necessario Però vanno usate con testa e bisogna sapere come bloccarle Le cinghie a un punto si attaccano come ben sapete sul lato posteriore del vostro tattico In modo tale che vengano tenute ferme dal passante a molla dietro E poi è bene bloccarle in due punti diversi Uno è questo qui, qui davanti In questo caso viene bloccato con questo cinturino Io una volta l'ho fatto con un moschettone, funziona nello stesso maniera In modo tale che quando andate a buttarvi il fucile sulla schiena La corda sganci appunto su questo passante o sul moschettone che voi ci avete montato È molto importante fare questa cosa perché se voi non lo bloccate da nessuna parte Potete tenere il fucile sballonzolante qui davanti ma non potete caricarvelo sulla schiena Non state quindi sfruttando al massimo del suo potenziale le funzionalità della cinghie a un punto Passiamo adesso sul lato Spostiamo anche la manica del nostro amico Bene abbiamo due tasche porta caricatori extra qui sul lato Nel caso si vadano a finire le sei che abbiamo qua davanti che è quasi impossibile E poi troviamo due tasche porta radio In questa esterna ci si mette la radio con cui si comunica con la squadra Mentre in quella interna normalmente non è ovviamente obbligatorio anche perché due radio costano una certa cifra Ci si può mettere la seconda radio con cui invece si sta in contatto con l'altra squadra su una frequenza decisa da entrambi Qui in alto troviamo sempre un coprispallina con attacco in velcro Qui ci è stato fatto passare il tubo del camelback Molto molto comodo devo dire soprattutto perché ve lo tiene in posizione E non avete il solito problema di trovarvi dei cavi, dei fili o dei componenti del tattico Che vi si vanno a ingarbugliare con il cavo della radio, con alcuni dei passanti e il resto Ma è tutto messo in maniera ordinata in modo tale che stia al suo posto Sulla parte posteriore invece troviamo ovviamente il maniglione del tattico per trasportarvi quando siete feriti Se volete quel tocco di realismo in più Una bandiera italiana per un po' di patriottismo in più che tanto male non fa Un altro attacco velcro per attaccarci tutte le pezze e ricordarvi come vi chiamate Soprattutto quando giocate con gente che non vi conosce possono vedervi direttamente di spalle ed evitano di fare fuoco amico Un caricatore extra normalmente per la squadra in modo tale che se qualcuno finisce i colpi può prendervelo Senza che vi debba chiedere oh c'hai un caricatore e distrarvi dal vostro gioco Lucina sempre per evitare il fuoco amico che si accende durante le partite notturne Fascette per legare le mani del vostro nemico catturato giusto per dare quel tocco di realismo in più Due moschettoni per tenerle ovviamente ferme E poi ovviamente l'attacco del mantis che è attaccato qui che adesso vi faccio vedere bene come è stato attaccato in maniera molto coscienziosa L'altezza a cui io normalmente metto l'attacco mantis è alla terza attaccatura del molle del tattico Questo perché evita di avere sul davanti la cinghia troppo lunga e allo stesso tempo mi permette di regolarlo in maniera perfetta In modo tale che a seconda del peso del fucile in quanto la cinghia ricordiamolo è elastica Il cavo davanti è elastico in modo tale che abbiate un minimo di gioco E in generale la lunghezza anche della parte della cinghia invece che non è elastica si possa regolare in maniera semplice ma soprattutto veloce In quanto non voglio tutte le volte aprire l'intero tattico sfilarla perché è veramente tedioso Soprattutto quando come potete vedere qui abbiamo tante cose attaccate sopra All'interno dello zainetto troviamo ovviamente la vescica quindi il camelback che non sto a tirarvi fuori Tanto l'avrete visto in 200 salse diverse Muovendoci poi sul lato troviamo una tasca porta forbici che vi può essere utile quando dovete tagliare lo scotch O in generale quando dovete tagliare le garze se siete un medico anche se normalmente si usano delle fascette perché sono più comode Seconda granata utility anche questa qui molto comoda qui dietro perché si riesce a estrarre veloce Una tasca utility in cui potete mettere tutto quello che volete batteria di riserva Il cellulare io non consiglio mai di metterlo da nessuna parte però a vostro rischio e pericolo fate quello che volete Tasca del colpito tipica della 8 field molto comoda E infine una granata flashbang che si può attaccare grazie a questi passanti È molto molto comoda non rischia di scapparvi non ci dovete mettere una tasca apposta E quindi potete mantenere un peso abbastanza leggero anche se con tutto quello che vi ho fatto vedere attaccato vi assicuro che pesa abbastanza Prima di proseguire vi lancio un contest Mandateci su instagram le foto in direct ovviamente le foto dei vostri tattici E le più belle le pubblicheremo direttamente sulla pagina instagram del 6 mm Pensiamo sia una cosa interessante per voi e per noi per vedere come ognuno di voi ha deciso di personalizzare il proprio tattico a modo suo Se non ci seguite su instagram vergognatevi no sto scherzando trovate il link qui in descrizione Quindi andateci a seguire e mandateci la foto del vostro tattico Come avete visto questo è un tattico veramente pieno È stato veramente riempito in ogni suo punto in maniera coscienziosa in maniera funzionale alle necessità dell'operatore Chiaro è che nel momento nel quale voi non dobbiate utilizzare delle granate come queste O preferiate usare un altro tipo di arma se avete caricatore di forma diversa Il setup va a cambiare Infatti ognuno di voi può agghindarlo e può equipaggiarlo in maniera diversa secondo delle sue necessità L'importante è ovviamente come vi ho fatto vedere che i passanti molla siano attaccati bene Che non ci siano componenti che sballonzolano in giro Che i cavi siano come più possibile messi al sicuro perché sennò si rompono Tutto deve essere in funzione dei vostri bisogni e del vostro stile di gioco Per alcuni di voi un tattico così pesante così agghindato è ingombrante Per questo giocatore non lo è Io per esempio ho un tattico simile ma un po' più scarno perché ho bisogno di essere un pochino più veloce A seconda anche di quanto siete forzuti e irsuti potrete decidere di caricarlo di più o di meno E a seconda dello stile di gioco che avete magari siete uno speed gunner che ha voglia di correre direttamente all'obiettivo O magari invece preferite prendervela con calma e controllare ogni singolo angolo e procedere zona per zona Insomma ognuno ha il suo stile di gioco e il tattico deve essere in funzione di questo stile Bene vi ho detto tutto quello che... no non tutto però buona parte di quello che vi volevo dire È un argomento molto vasto su cui potremmo stare a parlare delle ore però non vi voglio annoiare Ricordatevi di mandarci le foto dei vostri tattici su Instagram in modo tale che noi si possa selezionare quelle migliori E pubblicarle direttamente sulla pagina e nelle storie Se avete domande, dubbi, perplessità o se volete che recensisca in particolare un determinato tattico Se volete che tratti un determinato argomento scrivetelo giù nei commenti che li leggiamo tutti E siamo interessati a sapere cosa ne pensate Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry Spero che sia chiaro che non è che non mi lavo Ho girato i due video insieme quindi la felpa e i vestiti sono gli stessi Però cioè... non ho le pezze al culo